Vorrei a tutti ricordare che fra poco decorre circa un anno da quando è morta una ragazza investita in pieno centro, è una cosa inaudita, è una tragedia immane per tutti quanti pensare che una ragazzina di 14 anni possa essere investita e uccisa in pieno centro, in pieno giorno, questa è una cosa che doveva, io speravo far fermare tutto, tutto e dire dobbiamo fare qualcosa, non è successo niente, non è successo niente, io ho chiesto addirittura come minimo di rifare gli attraversamenti pedonali, nemmeno quelli, questa è vergogna, questa è vergogna pure, scusatemi se perdo un attimino il controllo, però in questo io trovo assurdo che dopo aver subito un dolore per tutta la comunità di questa portata, noi siamo stati capaci solo di fare gesti simbolici come lutti cittadini, manifestazioni, ma nessuna iniziativa costruttiva per tutelare i cittadini ed i pedoni in questo territorio.